Ho sciolto le mie riserve e quindi mi cantido al sindaco per le elezioni amministrative che si terranno il 12 giugno del 2022. Ho tentato di mantenere il centrodestra più unito possibile, ma grazie agli amici che mi hanno attestato un grande affetto, ho deciso di allargare quella che è la mia appartenenza politica a tutte le forze politiche, sociali e principalmente libere del Paese che possono finalmente dare una svolta a questo nostro benedetto comune. Principalmente dobbiamo puntare ai progetti del PNRR, dobbiamo quindi puntare all'agricoltura e dobbiamo quindi puntare a quello che è il nostro cavallo di battaglia che è l'Ereclea Minua. Dobbiamo sfruttare al massimo quelli che saranno i finanziamenti del PNRR. Ho tante idee, mi piacerebbe principalmente investire sulle comunità energetiche perché io sono un appassionato delle energie sostenibili e quindi rinnovabili. Ho un grande sogno che è quello di riaprire la Chiesa Madre perché quello è veramente, secondo me, il segnale della ripresa della nostra comunità. La matrice deve essere riaperta. La matrice deve essere riaperta.